Amici Juventini e non buonasera a tutti voi o buongiorno dipende da come e a quando vedrete questo video Intanto condividete, condividete se volete, iscrivetevi al canale ma l'importante è condividere, l'importante è condividere Ah è ora, è ora, Massimo Brambati, Massimo Brambati ha detto che se la Juve non si dà una svegliata e non manda via Allegri E non prende un allenatore competente che riunisce tutto lo schifo che c'è intorno Perché la Juve per adesso che c'è Allegri è uno schifo completo E non prende Conte, fa una grandissima cavolata Non prendere Conte è una grandissima cavolata Dunque, se la dirigenza non si sbriga a fare buone uscite, cassate varie, soldi Vabbè, Allegri, se te vuoi è il bene della Juve, se te vuoi è il bene della Juve va fuori dai coglioni Punto Questo poco mi assicuro Noi altri tifosi, gli uventini, siamo già scoyonati da ti, da te e da tutti gli amici al bar Che ti vai a fare durante le conferenze stampa e compagnia cantando Dunque, Massimo Brambati ha detto che se non si prende Conte o un allenatore competente La Juve, ovviamente, non va da nessuna parte Dunque, qua, ovviamente, chi non dà ragione Chi non dà ragione a Brambati Comunque, bisogna che la dirigenza, adesso, come adesso, se in Arabia, là, mi vuoi decidere Anzi, che Alatrina non decida di questa offerta, qua, degli Arabi, siamo a posto E se no, se lo teniamo, se lo teniamo, ancora parlo 2-3 anni Una grande cagata Guarda, se resta Allegri, guarda, mi cambio squadra Punto Posso dirmi? Non mi ricordo Vabbè, che ho letto la notizia, però Però non mi viene più di tanto le parole per riassumere Vabbè, in complesso Nel complesso, in complesso o nel complesso La Juve bisogna che si sbriga A fare A prendere un direttore sportivo Un direttore sportivo Adesso Aspettiamo giuntoli Che Se viene, se viene, se viene, se viene, giuntoli Speriamo che, che, che la via Allegri Ma questo, ma questo, ma questo non, non, non se sa, non se sa, perché Perché qua Juve, qua Juve, una volta, una volta Si sapeva, si sapeva quello che, quello che faceva la Juventus Una volta si, si sapeva Si dichiarava Dicevano davanti ai microfoni Davanti alle conferenze stampa Guarda, facevamo questo, questo, questo Noi altri avevamo un progetto Adesso con Allegri Adesso è scompario tutto È scomparso tutto Non sai veramente un cazzo Di quello che ci sa della Juve Progetti, futuri, remoti e strapassati E a merda che c'è intorno Non ti sai niente Perciò, non so È quasi Quasi un mistero Perché ovviamente Non, non sappiamo Fino a quando la Dirigenza Si sveglierà Elkan Elkan Va bene Ho capito tutto Ho capito tutto Che ti, la Juve Della Juve Non ti interessa niente Proprio te ne frega niente Se sei È proprio l'ultimo dei tuoi pensieri Come tutti Tutti gli altri hanno detto Bene Abbiamo visto che Visto che siamo qui Visto che siamo in questa situazione qua O te dici O dici Una volta Una volta per tutte Valla tosati Bisogna che Mi avendo Avendo E qualcuno si ha toe È tipo compagno da Baseta E compagno da Baseta Che c'è Che c'è uno Che dice Ho una moto Avendo Avuto Va bene Adesso Così E ragazzi dai Comunque Comunque Bisogna che Elkan Essere decida Una volta per tutte Di dire Tosati Mi aiuto più di tanto Avendo Che c'è già Che c'è già in merda Qua Qua Penso di De tagliare corto Avendiamo Facciamo Profitto Facciamo Mercato Facciamo Un po' Di De borsa Un fiantino Di Di Alzamento Ma bisogna Che Elkan Anche a ti Anche a te Che pensi Che Che bisogna Che Allegri E vada via E vada via Ma visto che a ti Non ti interessa niente De De Exxon De Fumla 1 De tutti i sport Che ti guardi Che tutti i sport Che guardi Oppure Pensi Di Di Sapere Ma Nel concreto Della Juve Della Juve Non Avrai Avrai Soldi Appalate Non c'è Nudo da Criticare Per quello Solo perché Solo perché I soldi Gli sfrutti male Gli sfrutti male Perché c'è Una dirigenza Incompetente Che Non vuole Il bene Della Juve In primis In primis Te Te Elkan Che non riesci A gestire Una Juve Nel complesso Perché A parte La dirigenza Che ha ripreso Allegri Alla fine C'è anche Mosche Che mi rompe Le scatole Non ti si può Gestire Una gestione Di Gruppo A parte Che Parlare Di Elkan È come Parlare A volo Perché Non 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 A dire La verità Su Su Quello Che De Quello Che Sì A Juve Perché Non Da Juve Non si può Non si può Sovere Niente Però Elkan Se Ti muovi A fare Qualcosa Ti Fa Il bene Della Juve Buono E Se no Assemmo Così Lasciamo Così E Andremo Sempre In merda Ma La colpa Sarà Sempre Tua Insieme Insieme Con la Dirigenza Insieme Ad Allegri Che non so Che fine farà Ma Penso Spero Che Penserà Di 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 Questa Offerta De De Arabi Però Sarà Lunga E Lunga E E Penserosa Con tante Rotture Di Di Palle Perché Non Non Si Vuoi Savare Niente Tutto Aspettiamo Aspettiamo Un Aspettare Un Aspettare Un Completo Un Aspettare Complessivo Imminente Ogni Volta Va Non Che Poi Gli Arabi E Te E Te Fanno Un' Offerta E Può Riffiutare C'è Ma Chi Ti Dà 70 Milioni C'è Ti Si Un BAU Che Ci Accetti Ma Visto Che Con Juve Ti Stai Ben E Con Juve Vuoi Che Vuoi Che Se Tocca Juve Perché Ti Siti In Meso Che Ti Siti Il Primis Che Che Te Ruminare Sto Juve Qua Insieme A Dirigenza E Agnelli Ma Per A Fine A Fine Se Non Ti Accetti Grave La Situazione Grave Va Bene Ragazzi Dai Io Vi Saluto Non Iscrivetevi Al Canale Non Iscrivetevi Al Canale Scherzo Condividete Mettete Mi Piace L'importante Condividere L'importante Condividere E Dopo Se Siete Arrivati Qui Fino Alla Fine Del Video Meglio E Se No Pazienza Tanto Non Sono Uno Che Va In Cerca De Niente E Mi Fa Piacere Che Vi Siete Iscritti E Siamo A Posto Va Bene E Allegri Allegri Merda Forever Allegri Merda Forever Ciao A Tutti Ragazzi De Sempre Forza Juve Ma Con Questo Con Questo Motto Non Mi Viene Più Stimo Finché C'è Questa Merda In Panchina E Fino Che C'è A Capo Ancora Di Questa Dirigenza Incompetente Insieme A Questo Amico In Panchina Va Bene Ciao Ragazzi Che Schifo Per Adesso Ciao Non C'è Non c'è Niente De De Concreto Su Juve Non c'è Mai Niente De Concreto Su Juve Sempre Sempre Problemi Sempre Robbe Che Non va Ben Robbe Che Non 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 Ci Spiega Nessuno Non Ci Spiega Nessuno E Noi Sentiamo 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 Ma Niente Di Concreto Va Bene Dai Vediamo Nei giorni Futuri Nei giorni Nei giorni Che Scorrono Va Bene A Posto Ma Speriamo Che Inizio Il Campionato Speriamo Che All'inizio Del Campionato Che Sia Qualcosa De Concreto Perché Se No Basta Minotifo Più Minotifo Più A Juve Ma Sì Tifare Posso Anche Tifare Però Cambio Sfonda Cambio Sfonda Sfonda E Non Mi Interesso Più Niente Ciao Fino Che C'è Questo Individuo In Panchina Ciao Ragazzi Scusate Per La Lunghezza Del Video Bene Ciao Ciao